Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon GX Ah 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 ah, prima di partire ragazzi voglio che lasciate i big like Perché sta per partire la nuova segla con Tani Ok ragazzi, ok, eccoci qui, vedete? Sono nella base del team Rainbow Rocket perché avevo affari qui Guarda caso, si parla della base del team Rainbow Rocket e mi spawna in partita un Tirloss Chissà che cosa deve fare, forse anche lui ha bisogno di affrontare delle questioni sulla base Ma prima di andare all'oggetto vero e proprio del video di oggi Vi voglio far vedere che mi sono accomodato e finalmente ho preso il possesso della mia stanza all'interno della base del team Rocket Che fa parte del, diciamo, della branca del castelletto che sta a destra alla struttura centrale Quindi ragazzi, detto ciò, entriamo Voglio ringraziare Eustachio perché da quando sei qui le cose hanno preso una strana accelerata Quindi grazie Eustachio che hai contribuito a smuovere le cose, hai ordinato i mobili, hai sistemato tutta la camera Mi fa molto piacere avere uno sgarro come te nel team, devo dire la verità, sono finalmente felice di averti vicino Perché stai lavorando davvero duro e preparati, saranno eternità così, quindi datti da fare, mi raccomando Eustachio Quindi ragazzi, noi saliamo al piano di sopra e passando da questa parte si va nella mia stanza Siete pronti? Io spero che vi piaccia e ditemi nei commenti che cosa ne pensate Ci ho messo il cuore a... in realtà ci ho messo il cuore a ordinare a Eustachio come arredarla Però comunque diciamo che ha il mio stile Quindi ragazzi, eccoci qui Già partiamo dal ponticello che come vedete ha questa texture di portale del nether Per ricordare che siamo nel nether e che insomma è il luogo da cui io ho origine Tutte queste candeline molto romantiche di Ayrpoco ci portano all'entrata E ragazzi, benvenuti nella mia stanza Allora, fermi, questa è solamente una sala d'attesa Gli ospiti che vorranno venire a parlare con me in privato Si potranno sedere qui e osservare le mie statue che non sono per nulla inquietanti E non mettono assolutamente timore Potranno rilassarsi, farsi una bella lettura, parlare con gli altri ospiti Con questo bellissimo lampadario a illuminare tutto Nel tappeto vediamo la R del Team Rocket L'ho voluta fare così perché ce l'aveva nello stesso modo anche Fede dall'altra parte Quindi ho voluto fare un richiamo E insomma, questa è solamente la sala d'attesa Ma ora andiamo nell'ufficio vero e proprio Quindi seguitemi, scendiamo le scale E Eustachio non ha tolto il cadav... Cioè, l'ospite... Ah, che palle! Allora, non fatevi impressionare Al di là che, cioè, si sono un po' rotte le pareti Perché ho dovuto educare questo ospite Che è essenzialmente un disertore Non voleva far parte del Team Rainbow Rocket Sono successe cose E nello sparare, ecco, ho bucato qualche parete Ma non fateci caso, ok? Farò sistemare tutto prima o dopo Questa è la mia stanza Vi piace? Che ne dite? È un po' in disordine Ma qui si lavora duro Quindi ho un po' di cose in giro Ora vi spiego che succede Allora, la stanza del Team Rocket è un po' un ufficio Come vedete qui in fondo Ho un letto circondato da fuoco Che mi serve per riposarmi Insomma, se ho bisogno di qualche ora di sonno Ho anche dell'acqua da bere Qui un po' di tesori in avanzo Perché il Team Rocket è ben ricco E insomma, Giovanni ci ha dato un bel po' di lingotti d'oro Per arredare Mi è avanzato qualcosa Qui abbiamo dei fossili Dei tesori, così, di esposizione Delle ceste che al momento sono vuote E poi, ragazzi, qui ho la zona, diciamo, del mio ufficetto Qui è dove sto studiando cose su cose Sto facendo degli esperimenti Insomma, lui mi ha servito molto per avanzare con i miei esperimenti Sto studiando un pochino il Regno dei Fantasmi Come vedete anche dal libro Il Regno dei Pokémon Fantasma Che saranno un po' il tema, diciamo, della mia palestra Quindi mi devo informare molto bene per capire come fare Ci sono appunto un po' di monete scartoffe in giro Non vi preoccupate E noterete che per me il tempo è denaro Infatti soldi, clessidre, tempi, orologi dappertutto Perché è importante gestire molto bene il lavoro Scusatemi ancora per il disordine Ma come vedete qui ci diamo un grande affare Dall'altra parte possiamo notare Una seconda mini ufficio Qui ho l'Eggio Ho un po' di musica per accompagnare Le ore, diciamo, più dure e più noiose E le catene servono per gli ospiti disubbedienti Tipo lui Che non so neanche che nome Come ti chiamavi tu? Lo chiederei a Eustachio Potevi anche essere un suo compagno di cella magari In una vita diversa Invece ti è andata male Scartoffi in giro Un enorme orologio E poi ragazzi qui nascosto C'è un ascensore Che in realtà si vede da sotto Ma che ci porta giù Nella zona, diciamo, relax Qui c'è un piccolo giardinetto Attorno al focolare Dove sto coltivando delle piante del nether E tra l'altro stanno anche crescendo a meraviglia A quanto pare Qui possiamo vedere La vastità del cazzo che ce ne frega Cioè il nulla cosmico di questa dimensione Tutta per il team Rainbow Rocket Sì, abbiamo un'intera dimensione Certo ragazzi Giovanni non ha badato a spese E poi qui abbiamo i trofei Dei nemici sconfitti Vedi, questa era la nave Del Capitan Dave Gliel'ho imbottigliata Questo era un re Di non so quale regno Che vabbè Si era messo contro di noi Un soldato Insomma cose Questo era un sudvudo Ribelle È stato pietrificato E trasportato qui Giovanni è molto fiero Dei miei tesori Devo dire Ma anche se non sono tutti I tesori che ho raccolto Nel corso del tempo Comunque poi da qui Si può uscire E si torna Nella sala d'aspetto Eustocchio Hai lasciato l'ospite Nella stanza Te avevo detto di toglierlo Anche se forse incute Un po' di timore Quindi potrebbe non essere Una pessima idea Però insomma Vedi un po' tu Se secondo te Va fatto qualcosa O se no Puoi anche lasciarlo lì Però dai non è ripulito È diamine Perché c'è polvere ovunque E poi Prima o poi Devi anche arredare tutto il resto Non battere la fiacca Su Va bene che hai tutto il tempo Dell'eternità Però date un po' da fare Ah Questo stacchio A volte gli do degli ordini Mi sembra quasi di stagli antipatico E non capisco il motivo Comunque ragazzi Detto ciò Torniamo nel mondo reale Attraversando Il nostro megaponte Perché abbiamo bisogno Di compiere Una nuova missione Infatti Il team Rainbow Rocket Ha bisogno di un leggendario simbolico E abbiamo pensato Che un leggendario Che sarebbe Particolarmente calzante È proprio il leggendario Dell'arcobaleno Sto parlando Di Oh Oh Ok ragazzi Rieccomi in facecam Innanzitutto Ho voluto toglierla Momentaneamente Per fare il tour Della base Senza avere impedimenti Dandovi diciamo Un'immagine più ampia Della cosa E ragazzi Ora ce ne torniamo In base Attraverso il mio passaggio segreto Perché mi tira i lagghini Eh Perché sono appena tornato Che succede Ok ragazzi Per trovare Il pokemon Che stiamo cercando Dovremo andare Durante il giorno In una Mesa Bryce Se non ricordo male Credo sia solo la mesa Bryce Controlliamo il volo Esattamente Spawna solamente Nella mesa Bryce Durante il giorno Quindi dobbiamo prepararci Una squadra Adatta per sfidarlo Ovviamente Lasceremo giù I nostri Vari starter Del passato Il nostro starter E gslash E andiamo Quindi a predisporre Una squadra Che a questo punto Sarà fatta Dal solito Como Vickavolt Tra l'altro Samurot Avete visto che Samurot Si è aggiornato Lo sprite E matcha benissimo Con la ball Il mio piano Ha funzionato Sta davvero Molto bene Quindi Lasciamo Riprendiamoci il fortu nuovo Dicevo E andiamo A prenderci Come leggendari Direi I soliti Quindi Xernias Reshiram Iveltal Necrozma Ma si Vanno Più che bene Tanto Loro Devono Solamente Tancare Essendo Questo Il leggendario Simbolico Del team Rocket Il team Rainbow Rocket Potrei Anche catturarlo Con una Delle mie tante Masterball E ragazzi Eccoci qui Alla mesa Bryce Molto molto bene Sta anche È giorno Non sta arrivando È giorno Quindi ottimo Io ho chiesto Nella scorsa puntata Di come usare Le masterball E sono così tante Che anche voi Mi sembrate un po' Confusi Su come usarle Perché ora abbiamo Ben quattro masterball Cioè What Abbiamo combattuto Un sacco Ne abbiamo trovate tre Una ce l'ha data L'infermiera Joy Ma poi l'abbiamo Scambiata Quindi ce la siamo guadagnata In qualche modo Considerateci accostata Un leggendario Scambiato Ovviamente Però quindi Sono contento È uno shiny E ora ragazzi Non ci resta che Aspettare questo Oh Nel mentre che Vediamo se spona Ovviamente Non vi farò aspettare Tre anni Farò un mega taglio E se spona bene Se no ragazzi Approceremo Con una tattica diversa Nei commenti Mi avete dato Molti consigli Più che altro Su che pokemon Catturare Ho visto che Molti di voi Mi chiedevano Proprio Oh Non credo Per una ragione Simile a quella Che ho pensato Che abbiamo pensato Noi del team Ma comunque Lo volevate Quindi eccoci qui Oh Tra l'altro È un pokemon Molto forte in passato Fu davvero figo Oh Guardate quello Devo capire se A parte che è un pokemon Orribile Ma non capisco Se è shiny O se è solo colorato In malo modo Non credo Possa essere shiny Tra l'altro Questa mesa Bryce È particolare Perché sta su un oceano Salve Barbaracol No Lei non è shiny Perché hanno fatto Un pokemon così brutto Me lo sono sempre chiesto C'è qualcuno A cui piace Questo Pokemon Come si è generata Sta mesa Che roba è Baggatissimo Comunque sia Vi stavo dicendo Che mi avete consigliato Anche un po' di pokemon Da catturare Per la palestra Per esempio Vari fantasmi È stato citato Trevenant Che mi piacerebbe Un sacco prendere Perché mi piace Come pokemon Gengar Gengar sarebbe figo Avere un mega Gengar shiny Perché È tipo La sua versione Più bella Secondo me Questo Fantasmono Bianco È davvero figo Però ovviamente Bisogna avere anche Fortuna lì Non c'è poco da fare Hoshawatt Ma dai Un altro Hoshawatt L'altra volta Mi ha fatto penare Trovo un Hoshawatt Così a caso Eh sì Perché qui c'è una spiaggia Quindi è corso Fin dentro la mesa Ma pensa te Eh ormai siamo a posto Mi spiace Non ti catturerò C'era una pokeball Eccola qui L'avevo vista Che conteneva Una level ball Oh va bene Ci sta E quindi stavo dicendo Mi avete dato tanti consigli E tra non molto Faremo sia Un episodio Alla ricerca dei pokemon Della palestra Non vedo l'ora Di farlo appena Avrò chiaro Il team che voglio Sarà molto divertente Un episodio O comunque devo farlo io Lì Ditemi voi Se vi fa piacere Vederlo o meno Ma dobbiamo portare Il team di adesso Almeno a livelli Verso i 70 Como è già il 100 Quindi nella sfida Delle palestre Sarà bannato Lui è il nostro pokemon OP Beh ragazzi Ci sarà da aspettare Un bel po' Credo Probabilmente questo giorno Passerà senza O E vediamo se Riusciremo a trovarlo o meno Ci vediamo Non appena Spawna qualcosa Ma prima Guarda lì Che cosa c'è Uno slobro Leggendario E noi lo sfidiamo Perché magari Ci fa trovare L'ennesima Masterball Chi lo sa Un po' di fortuna Un po' tanta fortuna In realtà Dovrei avere Non troviamo niente Questa volta Stola scelta La possiamo prendere Il resto Lasciamolo pure giù C'è un corso C'è un corso Ragazzi Ci siamo Mesa Bryce Giorno È spawnato O Ovviamente non è stato così facile Trovare O Il primo leggendario che mi ha spawnato È spawnato L'è vicino Si trattava di un vulcanion Ho provato a ingaggiarlo E la cosa meme È che con la prima Veloxball È entrato E lo ha catturato What the fuck Ho catturato così Easy un vulcanion Poi è stata la volta Di Lando Che è spawnato Non sono riuscito A prenderlo Perché dopo un po' di tempo Lui ha deciso Di finire i colpi Quindi si è ucciso In automatico Ma nel mentre lo stavo sfidando È comparso un altro Leggendario ancora Si trattava di un regiroc E che non sono riuscito A prendere neanche in quel caso Perché ad un certo punto Ho esagerato con il colpo E l'ho shottato Non ero molto nella mood Di catturarla A dirla tutta E poi appunto O Quindi torniamo a lui Ok ragazzi Sono riuscito All'acchiappare O Che Vabbè Vic a volte Speriamo che si levi Così mi fa vedere Vi fa vedere anche dov'è Allora Tuononda Non è stato possibile Per qualche ragione Il nostro O Di turno Nel mentre ormai è arrivata la notte Stava volando verso il basso Qualcosa del genere E si è andato a incastrare Nell'acqua Perché devo avere Questa visuale schifosa Quindi in questo momento Lui se ne sta lì Che si fa un bel bagnetto Che per quanto poco senso Possa avere Per me va anche bene Perché mi ha permesso Di ingaggiarlo facilmente E non inseguendolo In strane Spericolate Corsa aeree Ora Il problema È che io potrei benissimo Sprecare Tra virgolette Comunque Sfruttare una master ball Su di lui Non sarebbe peccato Anche perché Sarà un po' che un simbolico Ma non vorrei esagerare Quindi Proviamo a fargli Oblivion Wings Mi ha bruciato ai vesti Seltal Quanto sei infame Ok attaccalo di nuovo E attaccalo un'altra volta Non dovrei L'ha tirato giù Ok Rishiram Rishiram A paura gli faccia troppo male Ok Raga perfetto Ci siamo L'avrei voluto paralizzare Però non è stato possibile Quindi Va bene così Diciamo Proviamo a lanciarli Delle pokeball Vorrei una ball Calzante Prima di sprecare Qualsiasi altra ball Vorrei qualcosa Di adeguato Cromaticamente Ovviamente nella pokeball Non entrerà mai Però ha girato un sacco Proverò a sparmargli Un pochino di pokeball E probabilmente Anzi Subentriamo già con una mega ball Che non sarebbe malaccio Piuttosto che la solita ultra ball Ammettiamo magari un pochino Il catch rate Ma si libera ovviamente Perché Oh È un pezzo Un pezzo di Niente È Un duro Volevo dire Quindi non sarà facile farlo entrare In questa ball Vediamo Oddio Siamo andati vicinissimi invece Vai Ultima mega ball Ci proviamo Potrei provare le scuro ball Potrei lanciare le masse ball Come ho detto Vediamo strada facendo Quale tattica vogliamo adottare Una bella love ball Ignorantissima Una chic ball Ragazzi Proviamo a lanciare queste chic ball Già che ce le abbiamo Oddio Oddio non dirmi che sta entrando No No Ho fatto un casino No ho fatto un casino Ho catturato quella love ball No raga No cosa ho combinato E ora eccoci qui in casa Siamo tornati dal nostro Mega bottino di Leggendari Ne abbiamo catturati due Di cui uno Totalmente inaspettato Quindi direi subito Di mettere via Nel box Tutti questi Monellacci Siamo a quota 16 leggendari Iniziano ad essere tanti Quando ti campi un leggendario È difficile che ti esca per primo Allora Oh L'ho catturato con la love ball Mi chiederete in 3000 Se ho usato la master ball Perché il colore è lo stesso È una love ball E a dirla tutta Non mi dispiace Perché Matcha molto bene Sembra un po' Una master ball Tarocca Ci sta Come colore In realtà era un po' disperato Ma in realtà ci sta Volcanion con la velox ball Non c'è zaccato a niente Però c'è andata di fortuna Quindi non mi posso lamentare Questo è Volcanion È gigantesco Wow Mentre Oh Sembrerebbe piccolino Volcanion tipo Fuoco acqua Con vampata Idropompa Palla clima Nube È gigante per l'appunto È una natura ardi Che non modifica niente Lui potrebbe essere un buon Pokémon per le palestre Devo dire la verità Perché Fuoco acqua Potrebbe fare male davvero A un sacco di persone Anche se vanno valutate Le sue debolezze Allo stesso tempo Invece Oho è un Pokémon Fuoco volante Ha una natura impish Che diminuisce l'attacco speciale In virtù della difesa Non credo sia buono È grosso Pensavo fosse piccolo Invece no È grosso Quindi non è molto grande Come Pokémon In sé per sé E ha come mosti Sto a guardia Magifuoco Fuoco bomba E palla clima La cosa bella di Oho È che ci possiamo anche volare Quindi ragazzi Io direi di salutarci proprio così In vol su Oho Spero che questa puntata Vi sia piaciuta Abbiamo fatto un bel po' di cose E siamo riusciti a catturare Il leggendario Che potrebbe diventare Il simbolo del team Rainbow Rocket Perché E qui voglio riatterrare Ma sto laggando Perché sto scaricando L'update di Fortnite Nel mentre gioco Oddio Quanto sto laggando ragazzi Oddio Sto laggando un sacco Oh Vabbè Sta volando Da so Che succede? No ragazzi Sto laggando tantissimo Qualcuno mi fermi Stavo dicendo Che è il Pokémon Dell'arcobaleno E i suoi colori Possono in qualche modo Ricordare il team Rainbow Rocket Per cui si adatta Particolarmente Detto ciò ragazzi Noi ci salutiamo davvero Un saluto da Eren Blaze Ciao a tutti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao a tutti